In Egipto, non c'è un carico di Gesù, carico su tutto, carico su tutto, e ho fatto l'azienda di guardare la roba a me, ma i pensieri. A me, oh volontà, a me, oh Gesù, e ho fatto l'azienda di guardare la roba a me, e ho fatto l'azienda di guardare la roba a me, e ho fatto l'azienda di guardare la roba a me, e ho fatto l'azienda di guardare la roba a me, oh Gesù, e ho fatto l'azienda di guardare la roba a me, oh Gesù, e ho fatto l'azienda di guardare la roba a me, oh Gesù, e ho fatto l'azienda di guardare la roba a me, oh Gesù, e ho fatto l'azienda di guardare la roba a me, oh Gesù, e ho fatto l'azienda di guardare la roba a me, oh Gesù, e ho fatto l'azienda di guardare la roba a me, oh Gesù, e ho fatto l'azienda di guardare la roba a me, oh Gesù, Grazie a tutti.